Capitolo primo di Le storie del castello di Trezza. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Francesca Roma Le storie del castello di Trezza di Giovanni Verga Capitolo primo La signora Matilde era seduta sul parapetto smantellato, con le spalle appoggiate all'edera della torre, spingendo lo sguardo pensoso nell'abisso nero e impenetrabile. Suo marito, col sigaro in bocca e le mani nelle tasche, lo sguardo vagabondo dietro le azzurrine spirali del fumo, ascoltava con aria annoiata. Luciano, in piedi accanto alla signora, sembrava cercasse leggere quali pensieri si riflettessero in quegli occhi impenetrabili, come l'abisso che contemplavano. Gli altri della bricata erano sparsi qua e là per la spianata ingombra di sassi e di rovi, ciarlando, ridendo, motteggiando. Il mare andavasi facendo di un azzurro livido, increspato lievemente e seminato di fiocchi di spuma. Il sole tramontava dietro un mucchio di nuvole fantastiche, e l'ombra del castello si allungava melanconica e gigantesca sugli scogli. «Era qui?» domandò ad un tratto la signora Matilde, levando bruscamente il capo. «Proprio qui». Ella avvolse attorno uno sguardo lungo e pensieroso, poscia domandò con uno scoppio di risa vive e motteggiatrici. «E come lo sa?» ricostruisca con l'immaginazione le volte di queste arcate alte e oscure, in cui luccicano gli avanzi delle dorature, quel camino immenso, affumicato, sormontato da quello stemma geloso che non si macchiava senza pagare col sangue, quella alcova profonda come un antro, tappezzata a foschi colori, con la spada appesa al capezzale di quel signore che non l'ha ritirata mai in vano, dal fodero, il quale dorme sul che vive, con l'orecchio teso come un brigante, che ha il suo onore al di sopra del suo dio, e la sua donna al di sotto del suo cavallo di battaglia. Cotesta donna debole, timida, sola, tremante, al fiero cipiglio del suo signore e padrone, ripudiata dalla sua famiglia il giorno che le fu affidato l'onore ombroso e implacabile di un altro nome. Dietro quell'alcova, separato soltanto da una sottile parete sotto un'asse traditrice, quel trabocchetto che oggi mostra senza ipocrisia la sua gola spalancata, il carnaio di quel mastino bruno, membruto, baffuto, che russa fra la sua donna e la sua spada, il lume della lampada notturna che guizza sulle immense pareti e vi disegna fantasmi e paure, il vento che urla come uno spirito maligno nella gola del camino e scuote rabbiosamente le imposte tarlate, e di tanto in tanto, dietro quella parete, dalla profondità di quel trabocchetto, attorno a cui il mare mugisce, un gemito soffocato dall'abisso, delirante di spasimo, un gemito che fa drizzare la donna sul guanciale, coi capelli irti di terrore, molli del sudore di un'angoscia più terribile di quella dell'uomo che agonizza nel fondo del trabocchetto, e fuori di sé le fa avvolgere uno sguardo smarrito, quasi pazzo, su quel marito che non ode e russa. La signora Matilde ascoltava in silenzio, con gli occhi fissi, intenti, luccicanti, non disse «è vero», ma chinò il capo. Il marito si strinse nelle spalle e si alzò per andarsene. Le ombre sorgevano da tutte le profondità delle rovine e del precipizio. «Se tutto ciò è vero», ella disse con voce breve, «se è accaduto così, come ella dice, essi devono essersi appoggiati qui, a questi avanzi di davanzale, a guardare il mare, come noi, adesso». Ed ella vi passò la mano febbrile. «Qui». Ehi chinò lo sguardo sulla mano, poi guardò il mare, poi la mano di nuovo. Ella non si muoveva, non diceva molto, guardava lontano. «Andiamo», disse a un tratto. «La leggenda è interessante, ma mio marito a quest'ora deve preferire la campana del desinare. Andiamo». Il giovane le offrì il braccio, ed ella vi si appoggiò, rialzando i lembi del vestito, saltando leggermente fra i sassi e le rovine. Passando presso uno stipite sbocconcellato, osservò che c'erano ancora attaccati gli avanzi degli stucchi. «Se potessero raccontare anche questi», disse ridendo, direbbero che allo stesso posto dove si è posata la sua mano, ci si è aggrappata la mano convulsa della baronessa, la quale tendeva l'orecchia ansiosa verso quell'andito dove non si udiva più il rumore dei passi di lui, né una voce, né un gemito, ma risuonavano invece gli sproni sanguinosi del barone. La signora si tirò indietro vivamente, come se avesse toccato del fuoco. Poi vi posò di nuovo la mano, risoluta, nervosa, increspata. Sembrava avida d'emozione. Avea sulle labbra uno strano sorriso, le guanci accese e gli occhi brillanti. «Vede», disse, «non si odi più nulla». «Alla buon'ora», esclamò il signor Giordano, «dunque possiamo andare». La moglie gli rivolse uno sguardo distratto e soggiunse, «scusami, sai». Il raggio di sole, prima di tramontare, si insinuò per un crepaccio a fior d'acqua. Illuminò improvvisamente il fondo di quella specie di pozzo che era stato il trabocchetto, le ponte aguzze delle neri pareti, i ciottoli bianchi che spiccavano sul muschio, e l'umidità del fondo e i licheni rachitici che l'autunno imporporava. Il sorriso era sparito dal viso della signora spensierata, e volgendosi al marito, timida, carezzevole e imbarazzata. «Vieni», gli disse. «Bada», rispose il signor Giordano, col suo ironico sorriso, «ci vedrai le ossa di quel bel cavaliere, e farai brutti sogni stanotte». Ella non rispose, non si mosse, stava chinata sulla buca, appoggiandosi ai sassi che la circondavano, infine con voce sorda, «Infatti c'è qualcosa di bianco, laggiù in fondo». Senza attender risposta, se quest'uomo è caduto qui, ha dovuto afferrarsi per istinto a quella punta di scoglio, vedete, si direbbe che c'è ancora del sangue. Suo marito vi buttò il sigaro spento e volse le spalle. Ella rabbrividì come se avesse visto profanare una tomba, si fece rossa, e si rizzò per andarsene. Era una graziosa bruna, palliduccia, delicata, nervosa, con grandi e belli occhi neri e profondi. Il piede le sdrucciolò un istante sul sasso malfermo. Vacillò e dovette afferrarsi alla mano di Luciano. — Grazie, gli disse con un sorriso intraducibile. Si direbbe che l'abisso mi chiama. Fine del capitolo primo